Cristian Micogoro dopo l'incidente della volta scorsa, l'incidente che è capitato nell'ultima gara, riprenderà a gareggiare regolarmente e lo farà domenica prossima sulla pista di Misano. Cristian, innanzitutto quali sono le tue condizioni e com'è andato questo mese di convalescenza? Io da quando corro ho avuto parecchi infortuni, diciamo che la schiena fortunatamente non mi era mai capitata, però è una cosa abbastanza complicata perché comunque se dovevo stare a letto 20 giorni senza muovermi per nessun motivo non mi potevo girare, andare in bagno, quindi è stato difficile. Mi sono alzato prima del tempo perché comunque avevo due mesi e mezzo buoni di stop, quindi fare questa gara è una cosa molto in anticipo, però io comunque mi sento bene. Così Cristian Micogoro alla vigilia dell'ultimo round del Dallop Cup in programma domenica 29 settembre a Misano. Per il pilota sulmonese non è facile rialzarsi dopo la brutta caduta del 25 agosto scorso al Mugello che gli ha provocato la frattura ad una vertebra. Armato di una grande forza di volontà, Micogoro sfiderà tutte le difficoltà per concludere il campionato in maniera prestigiosa. Non so se in moto mi farà male la schiena, cercherò di fare il meglio che posso con queste condizioni, sicuramente a livello mentale non è il massimo perché non guidi proprio con una sicurezza al 100%, però vediamo cosa si può fare. L'obiettivo è chiudere nei primi tre che comunque in un campionato italiano, quindi di livello nazionale, poi comunque con un livello così alto è sicuramente il top. Subito dopo l'incidente c'è stata immediatamente la tua convinzione di riprenderti al più presto possibile per gareggiare? Sì, io appena sono caduto il primo pensiero è stato quello, nel senso che magari una persona può prenderti per pazzo, però uno che fa questo lavoro è normale che la prima cosa che pensi è il campionato, tutti i sacrifici che fai durante l'anno, poi magari per una cosa del genere finisce tutto, svanisce tutto quello che avevi creato. Sono stato seguito da parecchi medici bravi, mi ha seguito anche il dottor Costa, quindi siamo riusciti a rimetterci in piedi il prima possibile, perché comunque con una frattura nella vertebra, persone che stanno 3-4 mesi a letto, io ho fatto 20 giorni, sto in piedi, quindi sicuramente sono contento di questo.